L'idea era un po' di avvicinarsi a un turismo a chilometro zero, chiamiamolo così, quindi di voler presentare questi luoghi alla gente di Cortona, ma non solo, quindi di tutto il territorio. Un'iniziativa che devo dire che ha portato veramente un numero molto alto di visitatori. Turista a chilometro zero, sotto titolo della rassegna, chiude in bellezza e prepara una nuova serie di appuntamenti. Cortona Rando infatti è un progetto dedicato ai cittadini per stimolare la conoscenza delle bellezze del territorio che ogni appuntamento ha accolto oltre 100 persone. È stata un'unione di forze, quindi abbiamo lavorato ovviamente il progetto voluto dall'amministrazione comunale che ha visto la collaborazione con Confetercenti e poi abbiamo visto appunto la collaborazione con l'ufficio turistico con Conteiro Gather in Tascani e Unicop Firenze e poi ovviamente noi guide turistiche di Federagit che abbiamo con piacere, diciamo, dato il nostro sostegno. Lo scorso 30 marzo l'ultimo incontro del tour dedicato alla scoperta dei simulacri cortonesi presente come ospite speciale Paolo Giulierini a cui si deve l'ideazione del progetto. Credo che il tema sia una proposta a costi popolari, dei tempi ben cadenzati, una ottima comunicazione e poi soprattutto l'approccio diretto con le guide che sanno accompagnare proprio come in un'avventura le persone. Quindi questo essere coccolati all'interno della bellezza dei beni culturali di Cortona a mio parere ha costituito l'arma vincente ed è forse un auspicio per continuare su questa falsariga. Realizzata in un periodo diverso da quello dell'alta stagione turistica, l'iniziativa è riuscita a fare il pieno anche quando le condizioni meteo non erano ideali. È andata bene, la cosa più bella è che tutti hanno apprezzato sia persone del comune di Cortona, del territorio, sia anche persone di fuori perché abbiamo avuto ospiti anche dalla provincia di Arezzo, qualcuno da Firenze e anche dalla vicina Umbria. Perciò diciamo che siamo proprio contenti. è andata bene, è stato un bel evento, tutti hanno apprezzato molto e già chiedono la prossima edizione.